buongiorno adesso andiamo a vedere carretto life e il regalo particolare che fede ha fatto a nonno faustino buona visione ragazzi guardate che qualità del buongiorno un po fa vedere fa vedere un po che stai fa le tagliatelle le tagliatelle di mattina vai vai fammi senti un pezzettino le pasta fa senti ma questa è roba che dove si trova eh mamma mia che pasta che mani in pasta che pasta in mani scusa eh ma tu che stai fa questo bastone eh stai qui perché c'è un palcazzo che mi viene intortato lì ma vanti tagliatelle ma io tu sei il controllore delle tagliatelle io ti ho fatto il regalo però guarda questi qua e quei questi ma che è che le voglio i miei occhiali prova a metterli prova a metterli prova a metterli